Per lui personalmente sarebbe guastato enormemente. Palle e gol, adesso il Morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto palle in verticale, in mare di gore, rete, 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 un gol straordinario, una magia, un gol incredibile. Incredibile, questo l'ha voluto con grande capardietà e poi con un gesto tecnico, con un colpo di tacco impressionante. Tantissime emozioni in questa partita che non doveva significare nulla, invece Beppe stiamo assistendo a uno spettacolo fantastico e questo col di tacco è una magia immensa. Davvero, è stato molto bravo e poi sente la porta.